design e contrat nell'hospitality, retail, ufficio e residenziale. Oltre 200 architetti hanno partecipato oggi, giovedì 10 novembre 2016, al convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore presso la Casa dell'Architettura di Roma. Oltre alla grande affluenza di architetti anche una notevole partecipazione da parte delle aziende che hanno avuto modo di presentarsi e di presentare i propri prodotti. Oggi abbiamo colto l'occasione per poter presentare un po' la storia dell'azienda perché spesso lo facciamo poco però l'azienda ha una storia molto lunga che parte fino agli anni 50 con i pari del design. Queste collaborazioni sono nati dei prodotti che sono ancora attuali, ancora bellissimi e oggi abbiamo colto l'occasione per essere qua a Roma per poter raccontare un po' quella che è la storia dell'azienda e far capire quello che è proprio il DNA. Perché è nata l'azienda, dove è nata e dove sta andando sostanzialmente. Cosa bella di oggi è che avere così tanti architetti tutti insieme raccolti ci consente di poter comunicare velocemente a una larga platea di intenditori quello che è il design, quello che è il prodotto dell'azienda e questo per noi è fondamentale perché spesso noi lo facciamo ad uno ad uno andando a raccontare questa storia nei loro studi. Poterli avere tutti insieme è un'occasione unica.